allora ragazze e ragazzi rieccoci qua sul boss runner stiamo proseguendo la scalata all'interno di questa enorme torre se non ho capito male vi ha raggiunto adesso la città vera e propria molto disordinata devo dire e aspettate un attimo devo togliere una roba allora aspetta questo alla fine non si realizzerà mai quindi posso anche toglierlo ok allora adesso lo scatto tiene una carica aggiuntiva va bene così ne abbiamo due questo lo vorrei togliere cosa mettiamo potrei provare sta deviazione non l'ho mai provata i colpi colpiti con la spada vengono rispediti al mittente necessario mirare potremmo provare no potremmo provare per ruotare aspetta questo ci sta qua ok però poi ci abbiamo anche deviare proiettili è molto più semplice però questo non ci sta questo non ci sta ci sta questo volendo il bonus degli uplink al sabre vuoto durano molto più a lungo e no mi viene da così giro questo ci sta mi sa che è l'unico no no forse anche questo lampo colpisci un'area molto più ampia attorno al suo percorso no questo non ci sta no no sembrava è così vabbè potrei mettere questo giusto per occupare lo spazio e basta qual'era questo qua e se no potremmo perché poi alla fine e no si ok volevo provare diciamo respingere i proiettili però se non è granché o se non mi trovo io punterei sempre sullo scatolo alla fine è una cosa che usiamo di più proviamo così allora come si respingono i proiettili se ce lo spiegano no sono andato da tutt'altra parte aspetta però ho recuperato forse gli ho respingono ah con l'attacco cioè attaccare al momento giusto forse saprei comunque ok e dove devo andare forse lì eh facciamo eh sì ok 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 si si attaccando al momento giusto si madonna no si respingono i proiettili però vediamo questo è morto questo è morto ma sono morto anch'io no oh non volevo usare quella ma fa niente vabbè e niente l'ho mancato qua ok qua ok apri ma che cavolo però ah però me l'ha tenuto me l'ha tenuto buono ok eh sì ok ok dove si va di qua no ah madonna no madonna our next goal is a repository a data archive created to store knowledge about the world before the burst it holds some of the documentation on project ghost runner just summed only on what was already in development back then com'è? no aspetta aspetta ok ah forse forse potrebbe non essere male respingere i proiettili solo che mi occupa tutto aspetta no dovevo salirci sopra vero? eh però devo porca prima ce l'ho fatta no lasciamo perdere tanto ci sono più le volte che non mi viene lo so già lo so già quindi mettiamo qualcos'altro lampa un'apparata maggiore i mici sono visibili durante il potenziamento sensoriale i mici sono visibili attraverso i muri abilità no io punterei alla fine alla fine lo scatto è quello che scatto si quello che avevo prima praticamente ok però qui c'è un bel po' di spazio magari magari questo non mi ci sta vero? no no questo deviare i proiettili è molto più semplice questo ci sta però non posso deviare i proiettili lo scatto ottiene forse questo ah questo ci sta aspetta lo scatto ottiene ottiene una carica aggiuntiva ma il suo tempo di ricarica aumenta sensibilmente ma ho questo che lo riduce quindi quelli si compensano provare ecco così è rimasto un bocchino eh vediamo no forse questo no questo no questo però non ho capito cosa sia dovata del potenziamento sensoriale per la mira con tecniche speciali è aumentata significamente oh vabbè giusto perché ci sta eh scusa fammi vedere vabbè non è non è neanche così tanto il tempo di ricarica proviamo eh con questo ma dove sto andando ma scusa eh devo salire di sopra eh però no devo salire sopra anche a quello eh se no non ci arrivo la eh va cagare aspetta lasciamolo la eh eh ok oh sono morti eh ok oh oh Cos'è che fa' sta roba? Oh, aspetta Ecco Ok Ho saltato Ok, male Ma meno male sono tutti di spalle Stavo dicendo E dai Così Ok E però Sai cosa faccio? Faccio così adesso Faccio così Ecco Meccati questo C'è un coprifuoco No Ho sbagliato Un criminal armado e pericoloso ha stato trovato nell'area Tutti residenti di dama cittadini devono rimanere in casa per la sua propria sicurezza Questi residenti che sono trovati in casa saranno scattati Ok Ok Eh, sapevo che ci n'era un altro Qualche parte No No Eh, dov'è l'altro? Aspetta Oh, ah Eh, è commosso la chiesa Non mi sembra Non mi sembra Ok Ok Puh, ah no Devo andare di là Mira l'oggetto che vuoi hackerare Cosa c'è da hackerare? Scusa Ok Lì non ci arrivo Lì non ci arrivo Lì non ci arrivo Ah, eh, sì In volos, eh Aspetta Non No, devo mirare lì Devo mirare Però scusa, eh Ah, guardalo lì Ok, ok Non l'avevo visto Sì, ma siamo comunque uno Voglio dire Vabbè che abbiamo doti Al di là Di ogni immaginazione Probabilmente Ma Prima di ogni ghost runner In Dharma Fu disabili Slaughter Tu eri uno dei Molti Unaffetti Con l'initiale Deactivazione C'erano variazioni Nel design Non Signore Scusi Ok Ah c'è uno Ma anche di qua c'è una via Beh, parlo di qua Porca 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 Forse è meglio andare di qua Porca Aspetta, si avvicini Eh no Aspetta Ok Lascia neanche il tempo Senti Ecco Quella Ok Ok No Oddio dove sono? Dove sono? Ehm Non ci sono appigli però purtroppo Aspetta Aspetta Mamma mia abbiamo recuperato Non so come Ok Ok Oh, tornare alla mia questione Non è che ti dubbio Ma Sei sicuro che puoi prendere il Keymaster Con te stesso? No No Proprio Eh Sono tornato di qua ma Ah Ah ma guarda Lì c'era un Potenziamento Un super salto Qui non ci arrivo Poi devo andare Forse Forse devo andare lì Ma con il super salto Basta è già finito Destinazione Non c'è una destinazione Ah la madonna L'ho visto adesso Queste lucine Eh ok Oh eeeh Devo prendere questo Ok Beh ma Beh ma Ci arriva Aspettazione No Ok 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 Ci abbiamo fatta Carriamo quello Oh La Porca vacca Anche di qua Ok Qua c'è uno Attenzione Non c'è Non c'è Non ho capito Vabbè Ok Ce n'è uno anche là Aspetta Vieni più vicino Ok No Ah c'è uno col corpo a corpo Ecco perché No Aspetta Dov'è? Ok Dov'è? Eh porca vacca Lì la tempesta era Perfetta Così No Diciamo Eh no Un attimo Eh oeeh La No, no, no Non va bene di là Va bene Questo così Questo Questo No No Aiuto Aspetta Andar di là Ok Adesso Da c'è uno col corpo a corpo Ok Ok Preso Aspetta Ok Ok Appalling A perfect society plunged into chaos Decades of my hard work and careful planning derailed Ma Ci sta perfetta io e cosa da devi dire Ok Ok Proseguiamo Ok Comunicato Adesso Prima di fare il Adesso Ah, altri ninja Vabbè Ah, troppo lontano Eh, mi sono rimesso No, dov'è, dov'è Ah, questi No, questi vanno solo parati Non posso schivarli, ma no Aspetta Vabbè, mi è uscita la parata E non ha saltato Vabbè Aspetta Ok Ehm, di qua Vado col figlio No Ok Ok Eh, sì, mi sa che Bene Possiamo andare avanti Ok Ecco Comunque, sì Forse il metodo migliore È proprio Ok Spararli, quelli C'è qualcuno qua No C'è qualche ninja Eh, infatti stavo guardando C'era qualche ninja Andiamo di qua Ok Eh, sì Devo continuare a muovermi Eeeh E sperare Probabilmente Ok Sì, oppure uso Tempesta Porca vacca Facciamo così Facciamo così Eh Olè Facciamo No Eh, che cavolo Però Va bene Beh Non ha preso Beh Scusi Ok Eh Sti ninja Insieme agli altri Sanno Parare Cioè Le rompiballe Eh no Eh no Ok Dov'è? Ah lì Porca vacca Era troppo lontano Oh Ho preso No Non l'ho preso Un po' a caso Ah non ho Ah ho preso l'altro Dai Ok Dov'è? Dov'è? Eh cavolo No Ok Eh no Devo prenderlo Devo prendere anche il ninja Ma Eh Eh Io vado qua Venga Venga No Mancato Dov'è? Eh Cavolo Ok Aspetta Ah è sopravvissuto Beh Eh cavolo Però quello che spara E l'altro che attacca Eh Stavolta li avevo presi Ho preso solo quello Non viene qua Aspetta Ok Ok Ah porca vacca Si è incollato al muro Se no Devo fare Così Gli ho presi tutti Oh ma dai E non dovresti Ma chissà Magari Non è totalmente Una macchina Eh Guarda lì Eh Ah madonna Sono solo affacciato Scusate Scusate Ecco Ah c'è questo Aspetta Guardalo Guardalo Ma facciamo così Ecco Ok 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 It's so quiet here You said there's a curfew Yes But it's more than that At the base even indoors Even after lights out You can still hear the heavy machinery Factory engines Air turbine Mining drills They never stop There's none of that here Eh Cosa ne so Io Sì Forse è giusto No Aspetta Qualcun altro Sì Aspetta C'è qualcun altro Ah ok 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 L'ho preso in tempo Ce n'è uno Ok Ok You don't talk much Huh I am Still It's good to hear your voice I've been trying to make it happen for a year Thank you Words only dull ideas A mind as sharp as a blade Has little to gain from idle chatter Ok Ok No Cazzarola No Attenzione Attenzione Ok Iiii Raggio Fasico Ok L'ho preso Si Ok Ok Però non so come ho fatto C'è l'ho fatto distinto Ok Eh questo mi ha preso Che è schivato stavolta No Aspetta Dov'è il raggio Eh eh Allora Aspetta 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 Qua Dov'è Eccolo là Eh ah Porca Caracca Salve Va qua Inizia Non mi fa neanche avvicinare Eh cavolo Attenzione Oh Ok Come Ah lì c'è un punto di domanda Intanto Ah è là Aspetta Eh no È troppo lontano È però così Porca Vacca È così Però c'è A saperlo Potevo Potevo Usare la tempesta Madonna Sono caduto Ok Aspetta Dove sei Ok Là in alto Ah Aspetta Cos'è Nuovo oggetto acquisito Codex Questo Tentative fallimenti Version 11 Version 11 Doesn't work Either It just spouted Nonsense For half an hour And then Terminated Itself A step up From the previous Iterations To be sure Number 10 Committed suicide Immediately While 6 Through 9 Showed symptoms Of extreme Mental instability Before I had To shut Them down I guess It's a lesson In humility Let's hope It's not too late To learn it Mara Has some Concerns About this But the work Continua At least The ghost runner Project Is near Completion If we can't Have what we want At least We'll manage What we have Well Eh sì Ma questa è la voce Dell'architetto Adam E Vabbè Ha costruito lui Ok Ghost runner Aspetta Facciamo così E lavorava insieme A Mara Quindi La custode Madonna Ah questo qua È il ninja Porca vacca Aspetta Eh troppo In anticipo Cavolo Ok Ehi Che che c'è là Dov'è Ah è là Ok Madonna Ho visto un ninja Ok C'è un robot Eccolo Eh Ok Scusi eh Madonna Troppo veloce Madono Non so cosa ho fatto Aiuto Ok Eh Devo andare Di là Aspetta No Ma non vai lì Aspetta Eh no Non va Non va sulla tenda Ok E ora Devo andare di là Ci arrivo No Punto No Aspetta Ok Ok Questo si può hackerare Ok Eh vabbè Che cavolo Ok Madonna Il ninja Ok Non è d'accordo Madonna Prendilo Prendilo No Che che c'è Dov'è Ok Ah qua Ti danno gli shuriken Volendo Contro Contro Chi li uso Dove Non c'è qui nessuno Ok Durano tanto Preso Ok Porca Aspetta No Sono caduto Aspetta Dammi gli shuriken Ok Così Ah durano Parecchio Andiamo Caso Dov'è Ah era lì Madonna Vabbè Porca vacca Eh Ma No Non mi è preso Ma Porca vacca Oh Allora Manca lui Aspetta Eh cavolo Eh Povevo Dov'è Ok Aspetta Eh 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 Allora Vabbè sì Ecco Facciamo così Va Ecco Eh Su Merda Merda Quello ha lo scudo Ok Madonna Ok Qua dietro Mi serve No Stavo guardando se c'era il rampino ma Non lo vedo No No Ok Attenzione Beh Stiamo così Ci fissiamo Ok Non vedo Non vedo Il rampino No Eh cavolo Battere quello Mo Forse devo Sfruttare la rotaia Però Prima devo eliminare Per forza Quello Sennò Che volevo Spostarmi Leggermente Di lato Adesso Vado Sul muro Ah ho preso Incredibile Ok Ok Aspetta Ok Ho fatto la sorpresa Ah c'è il ninja Vieni vieni Ok Ah c'è quello con lo scudo No Facciamo Così Ok Ci arriviamo Oddio che è Cecchino Forse Direi di sì Sì Ok Ok Dov'è Eh Dov'è Ok preso Ah ecco Mi scusi Eh ma se mi dava Un bel Lancia missili Eh Cioè Vedi che Altro che danni Collaterali Cioè Eh Ah Ok Capito Va da scudo No 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 Emo 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 e non c'è un progetto tecnologico per parlare. A questo punto, il regime di moro dovrà fallere ai rebeli in una decada o due. Si è armato con pezzi e pezzi. C'è un'attività nel repository. Non posso dire cosa sta succedendo ma c'è una distruttura nella network. Quale tipo di distruttura? C'è un campo di interferenza che si muove al distruttore. I sistemi di rilassamento si stanno a rilassare. Qualche tipo di uccia? Più come un dispositivo di rilassamento. Ma perché le chiave siano loro e le sue camera? Aspetta che devo cercare di capire. Devo andare... Ah, su? No. Ah, devo andare lì? Cos'è? No. Vada di qua. Ah, ok. Questo gira... Ok... Ok... Seguo sti tubi gialli... No... C'è una freccia... Ah... Questo è il super salto... ... Madonna... Ho sentito... sbatter la testa... Aspetta... Devo fare così, forse... Ok... Qua c'ho il cecchino... Ok... Ho c'ho il cecchino... Ho c'ho il cecchino... Attenzione... Ah, non è lì dietro... Ah, non è lì dietro... E' qua... No però... Che cavolo... Ho caduto... Come un imbecille... Via... Ce l'avevo quasi fatta... Mancava solo il cecchino... Bravo, bravo... Ok... Ok... Attenzione... Porca... Vai insieme... Aspetta, aspetta... Non ho più cariche... Un attimo... No... Cazzarola... No... Eh, un attimo... Ah... Preso, non so come... Ma va bene... Aspetta... Ok... Allora... Che cavolo... Non cadere... Per favore... Eh... Ok... Ok... Oh... Preso... Finalmente... It's in there... If it has what we need... It's our last stop before Marl's lab... Eeeh... Qua... Ah... Forse un nuovo potere... Vediamo... Allora... This... To protect the public archive... Madonna... Knowledge is power... And the information where after was anything but public... Madonna... Sì, ma non ho lo scatto... Non ho lo scatto... Eh, che fai... Mi togli le funzioni... Cioè, non lo so... Eh... Vabbè... Aspettiamo che... Questo posso fare così... No... Perché non vai sul muro? Senti... Dove sono? Ok... Ok... Ma... Mi gira la testa... Eh... Cioè... Sì, ma perché mi hai tolto lo scatto? Scusa... E la... E il salto sul muro mi ha tolto anche... Cioè... Qua non riesco a fare due metri, ma... Eh... No... No... Aspetta... Io voglio vedere se veramente non posso camminare sul muro... E no... No, non mi fa camminare... Quindi devo prenderla, sta sfera... Ok... Quando è qua, così... Poi devo fare... Così... Sì, e poi... Aspetta... Così... Ok... Un attimo... Qua non capisco... Ah... Eccolo lì... Si... Ah... Aiuto... No... Dove sono... Aspetta... Aspetta... Così... Me ne ha salvati... Qualcuno... Me ne ha salvati... Me ne ha salvato... Ok... Ehm... Ah... Eccolo là... Aiuto... Strane... È... 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 ma il server è intacto impossibile se la interferenza da prima era è dopo cosa? un attimo ho ancora raccolto i frammenti qui prendilo aspetta torno indietro ok dov'era? qua non lo vedo non lo vedo eccolo per prenderlo ok 11 dov'è? ecco c'è uno là in fondo ah ecco l'ultimo quello là attenzione no 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 ma no dai madonna ma davvero ti gira la testa aspetta uno per cui ah non era qui madonna mi sta girando tantissimo beh beh ah questo ok questo così poi così andiamo su e buonanotte ok fermi un attimo ce n'è uno qua sotto eccolo lì preso aspetta fermò ma no madonna sono al punto di partenza ma porca vacca e prima ce l'avevo quasi fatta che nervoso così ce n'è uno lì in basso madonna come lo prendo aspetta qua posso girare in sicurezza sì anche qua eccolo mio oh che cavolo fermo no fermo non ti aggrappare madonna un attimo ok dov'è l'ultimo che prima l'avevo visto ma non lo vedo più eccolo fermo non girare ok oh non ho male ecchi va bene poi miglioramenti ho più spazio e nuove cose allora il tempo scorre molto più lentamente durante il potenziamento sensoriale ma il potenziamento sensoriale è quello che faccio io quando scatto non mi ricordo più il tasso di generazione passiva della concentrazione aumenta di molto deviando i proietti ricarichi il contatore della concentrazione antiproietti durante lo scatto sei immune ai proietti ma il tempo di ricarica aumenta moderatamente eh ma questo occupa un sacco di spazio forse fa vedere se io levo questo ma forse ci sta ma che ci sta eh adesso mentre scattiamo possiamo prenderci in faccia anche i proiettili però aspetta vediamo aspetta e in effetti ci mette sì un po' di più potremmo provare grazie a tutti Grazie a tutti.